Hanno scelto di non rispondere Emilio e Nicola Riva nel corso dell'interrogatorio di garanzia avvenuto per rogatore a Varese. Stessa strategia difensiva anche per i sei indagati a Taranto, dove in mattinata davanti al Tribunale si sono registrati momenti di tensione e applausi all'arrivo di sei degli otto dirigenti e manager Ilva agli arresti domiciliari su disposizione del GIP Patrizia Todisco per l'inchiesta di disastro ambientale. I sei sono arrivati a Palazzo di Giustizia con i furgoni della polizia penitenziaria ciascuno prelevato nelle proprie abitazioni. Era stato infatti il magistrato a disporre il loro accompagnamento rigettando l'istanza del loro avvocato che aveva invece chiesto che gli indagati arrivassero liberi in Tribunale. Quando i dirigenti Ilva sono comparsi nel corridoio di Palazzo di Giustizia per recarsi dal GIP sono stati accolti da capi reparto e tecnici che li hanno attesi a Palazzo per sostenerli. Ci sono stati anche momenti di tensione e solo successivamente è tornata la calma. Oltre ai Riva, padre e figlio che gli è succeduto nella carica e si è dimesso un paio di settimane fa altri sei sono ai domiciliari. Si tratta dell'ex direttore dello stabilimento di Taranto Luigi Capogrosso del dirigente capo dell'area reparto Cocherie Ivan Di Maggio del responsabile dell'area agglomerato Angelo Cavallo. A loro si sono aggiunti altri tre dirigenti che hanno assunto incarichi in tempi più recenti. Si tratta di Marco Andelmi, capo area Parchi Salvatore De Felice, capo area Alto Forno e Salvatore Dalo, capo area Acciaieria 1 e 2. Sono accusati a vario titolo di disastro ambientale colposo e doloso, avvelenamento di sostanze alimentari, omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, danneggiamento aggravato di beni pubblici, getto e sversamento di sostanze pericolose. In più si è aggiunto anche il sospetto di corruzione in atti giudiziari per una sospetta mazzetta versata da un perito incaricato di eseguire delle indagini sulle emissioni dello stabilimento. Venerdì 3 agosto, l'udienza di riesame.